I sindaci sono uniti, ma senza la presenza delle altre istituzioni possono fare ben poco. Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, torna nuovamente sulla questione sicurezza, a seguito della marcia della legalità che ha visto protagonisti i primi cittadini del territorio a Pagani qualche settimana fa. Proprio sabato scorso, invece, una banda di ladri ha fatto irruzione nella villa del sindaco di Scafati. Ora più che mai, rimarca Liberti, è necessario far sentire la presenza delle istituzioni. I sindaci stanno facendo e continuano a fare squadra. Hanno lanciato un loro grido di allarme, quella manifestazione serviva soprattutto a questo. Credo che ci siamo riusciti a Pagani, il sindaco è stato in prefettura per discutere col prefetto di questa vicenda. È stato significativo in quella marcia anche la presenza non solo dei sindaci, del presidente della provincia, ma anche delle altre istituzioni. Penso all'arma dei carabinieri, penso alla Chiesa, con il Vescovo, che continua giustamente a lanciare moniti importanti che vanno nella nostra stessa direzione. Fare sinergia sul piano istituzionale in questa fase è fondamentale. Credo che solo insieme si possa condurre questa battaglia, consci del fatto che i sindaci da soli non vanno da nessuna parte, perché c'è bisogno anche degli altri livelli istituzionali.